Gentili telespettatori, buona giornata. Supermedia, Agi Utrend, vediamo che Fratelli d'Italia, primo partito perde lo 0,5, scende al 28,5%, il PD perde lo 0,2 al 19,9, il Movimento 5 Stelle è al 16,1, la Lega al 9,3, Forza Italia al 7,2, Azione al 3,8, Verdi sinistra 3,2, Italia Viva 3%, più Europa 2,4, Italexit 2%, Unione Popolare 1,8, noi moderati 0,8%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.